Ok, sono 85 dollari. Come? 85 dollari è la tariffa dell'aeroporto. Ah, sì, sì. È una di quelle fisse, certo. Altrimenti dovevi prendere l'autobus. Sì. Ma vaffanculo, brutto ladro! Ehi! Torna qui! Guardie! Guardie! Bertizio non mi ha pagato! Eccolo, lui! L'ho trovato! Ehi, stai dentro! Ma in seguenza il soffetto! 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 Grazie a tutti